Vuoi una console da retro gaming? Ma sei un poveraccio? Vieni va! Bella rega e benvenuti! Tutti retro gamer! Oggi ragazzi andiamo a vedere le migliori soluzioni per poter giocare a giochi retro gaming su console portatile. Al giorno d'oggi ci sono una montagna di console retro gaming made in Cina, veramente con capacità elevatissime, che possono emulare addirittura i giochi della PlayStation 1, PlayStation 2, del Nintendo 64. Ho passato veramente tanto tempo a cercare, a informarmi e diciamo che i prezzi sono un po' elevati, se si vuole una console che sia veramente funzionale. Io direi prima di fare un intro e andiamo a vedere queste console, che potete comprare benissimo su AliExpress o su Amazon. Molte di queste probabilmente le conoscerete già. E infine vi farò vedere qual è stata la mia soluzione per il retro gaming. Di console retro compatibili ce ne sono a migliaia e sempre è stato un po' complicato scegliere, perché tra console da 20€ che dici 20€ per poter giocare è un buon prezzo, però purtroppo le loro capacità sono sempre un po' rischiose. Diciamo che comunque comprare una console per il retro gaming, che poi la userai come fermacarte, non è la migliore delle opzioni. Direi proprio di no, no? Tra le console di basso costo possiamo vedere la Pocket Go. La Pocket Go ha un sistema veramente buono, una memoria di 32GB, e con un emulatore decisamente niente male. Si possono giocare praticamente a quasi tutti i giochi, se non mi sbaglio. Forse non va benissimo con il Nintendo 64, però l'emulazione di tutti gli altri giochi non è niente male. Il prezzo, allora qui vedete io ce l'ho a quello spagnolo, però ragazzi trovate lo stesso anche in Italia, non vi preoccupate. Comunque ecco ora sta scontata, più o meno sui 44€, perché qui ti dice 37€, ma alla fine, regà, so 40€. La console si presenta veramente bene, comunque è molto comoda, anche i bottoncini che ricordano il Super Nintendo, quindi se volete cambiare e smanettare, ci sta tutta. E tutto sommato, per il prezzo, è un buon compromesso. Non vi aspettate un'emulazione eccezionale, però dai, se poponcete una lira, va bene, no? Una delle migliori console per retro gaming è della casa produttrice Umbernic. La Umbernic ha fatto veramente tanti modelli. Ragazzi, qualsiasi modello prendete, più o meno, le base vanno tutti bene se non siete proprio dei fissati. Possiede due stick per il movimento, che vanno bene, sono abbastanza comodi e tutto quanto. Emulazione del Nintendo 64 ad alti livelli. In questo caso viene già spedita con 128GB. L'unica cosa da fare attenzione è il sistema operativo. Perché alcune hanno sistema operativo Windows e altre Linux. Quindi, se avete un sistema operativo Linux, dovete un po' smanettare. Per una console retro gaming, diciamo, 100€, ci possono stare, ci possono stare, calcolando la qualità. Come potete vedere, ci sono veramente tanti tipi di console. Anche queste con i tasti invertiti. E il materiale è veramente ottimo. C'è anche il grip dietro e tutto quanto. Quindi, Lambernic, io personalmente la consiglio. Però, parliamo delle cose serie. Se sei qui, è perché non c'hai una lira. Ti stai messo come me. Sei un poveraccio. Io ho avuto la soluzione per mesi davanti ai miei occhi. E non me ne ero mai accorto. Una soluzione che, sì, non è così semplice, ma è veramente economica. E, ragazzi, io, che sono legato con gli hack, a usare anche il computer e tutto quanto, ragazzi, ci sono riuscito io. Quindi ci potete riuscire anche voi. La soluzione è semplice. È la nostra PS Vita. La PS Vita potete incontrarla anche a una cinquantina d'euro. Usata e comunque è un sistema che funziona veramente, veramente molto bene. Inoltre, potete giocare a praticamente tutti i giochi retro gaming e anche ai giochi della PlayStation Vita. Offre uno schermo di 5 pollici. La prima versione OLED, quindi, ragazzi, c'è una risoluzione fantastica. In più, se avete anche una PS4, è il sistema di riproduzione remota, quindi potete giocare al cesso ai giochi della PlayStation 4. Quindi, mentre cagate, vi fate una partitella ai giochi della PS4. E non è male. Praticamente, ho preso la mia PS Vita e l'ho modificata. Ragazzi, è un sistema che sì, ci vuole un'oretta, un paio d'ore, tre ore. Ah, gente come me, che stiamo un po' messi male, raga. Che non siamo troppo capaci a fare queste cose. Comunque, con tre orette, ragazzi. Ora ho una libreria con giochi del Super Nintendo, del Game Boy, della PlayStation 1, della PSP. Cioè, ragazzi, posso giocare a quello che mi pare, sopra la mia PS Vita. Ovviamente, bisogna stare un po' attenti. Bisogna fare il downgrade del firmware a 3.6. Niente di così complicato. Io avevo l'ultimo firmware, quindi il 3.73. E ci sono riuscito. Quindi, ragazzi, ve lo dico sempre. Ci sono riuscito io? Ja, fate pure voi. Non vi preoccupate. In descrizione vi metterò una guida per poter fare tutti i procedimenti nel miglior modo. E se volete, più avanti, potrei fare una guida io. Quindi una guida, praticamente, per gente incapace. Così che non ci possiamo sbagliare. Su come modificare la vostra PS Vita. Potete fare la stessa cosa anche con la PSP. Ovviamente, potete trovarla a un prezzo ancora più economico. Però, personalmente, direi, se avete la possibilità di farlo con la PS Vita, fatelo con la PS Vita. Probabilmente tanti di voi ce l'hanno lì, messa come un fermacarte. Perché, purtroppo, la PS Vita ha avuto un bel po' di sfiga. Purtroppo, con la grande N, non ha potuto combattere. Era una battaglia persa. In più, ci sono tanti sistemi on-brew che vi fanno scaricare direttamente i giochi sulla vostra PS Vita, senza dover passare da PC a PS Vita ogni volta che volete caricare un gioco. PK-GJ. Praticamente, è un'applicazione che avete sulla vostra PlayStation Vita, che potete scaricare più o meno su 3.000-4.000 giochi della PS1 e della PSP e installarli semplicemente, velocemente, senza nessun problema. L'unico problema, ovviamente, è che la lingua italiana non è sempre presente. Quindi, tante volte, non so, se volete un Final Fantasy... L'italiano, scordatevelo! Tranne se si tratta di Final Fantasy VII, VIII e IX, che lì la versione italiana c'è. Per me questa è stata la miglior soluzione per poter avere una console retro-gaming a un prezzo minimo, anche perché io già ne avevo due, e soprattutto senza rischiare di poter comprare una console retro-gaming che, alla fine, non sia performante. Questo, ragazzi, è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e agli appassionati di retro-gaming... ...incastratevi! Bene! Bella regà!